sono le sette di lunedì 20 giugno 2022 e questa è la rassegna stampa di fano tv ben trovati amici per le notizie del giorno, le sfoglieremo come sempre dal resto del Carlino e dal Corriere Adriatico per quanto riguarda l'edizione di Pesaro vediamo anche il sole, il sole è sorto questa mattina alle 5.22, tramonterà alle 20.52 è l'ultimo giorno di aumento della luce solare per quanto riguarda la giornata, domani 21 giugno sostizio di estate e la luce comincerà un pochino a decrescere per poi arrivare all'equinozio di autunno, ma ancora siamo lontani ebbene cominciamo oggi la nostra rassegna stampa a partire dal santo del giorno e vediamo che oggi si festeggia un appellativo particolare della Madonna si tratta della Beata Vergine Maria Consolatrice degli afflitti gli afflitti, come lo sapete, sono protagonisti delle beatitudini beati voi afflitti perché sarete consolati, aveva detto Gesù e se c'è una persona che ha accettato di soffrire e ha accolto l'afflizione quella è proprio Maria, chiamata anche la Consolata e ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo tempo buono, tempo prettamente estivo anche su tutta la regione una giornata totalmente stabile e solleggiata il clima è caldo, le temperature sono in aumento le massime arriveranno fino a 35 e 36 gradi sono più contenute comunque sulla costa grazie a una brezza che viene dal mare i venti sulle coste spireranno da una direzione di sud-est mentre nell'interno da una direzione di ovest-sud-ovest il mare è calmo quindi una situazione ideale per andare in vacanza per chi se lo può permettere e vediamo subito le prime pagine dei giornali a partire dal Corriere Adriatico ecco qui l'edizione di Pesaro dove purtroppo campeggia una notizia ferale un grave incidente che si è verificato ieri sulla autostrada all'altezza di Marotta schianto, morti padre e figlio erano due imprenditori artigiani del settore della nautica il 32enne lascia moglie e due bambini l'incidente in A14 vicino al casello di Marotta feriti gravemente anche un operaio e una donna questa è la serie un po' di incidenti che ha funestato il giorno festivo di ieri e poi la fotonotizia dedicata a Sofia Raffaelli che a Tel Aviv ha avuto un doppio oro nella ginnastica ritmica chiamata la nostra farfalla sul tetto d'Europa è volata molto molto in alto Raffaella grazie alla sua grazia alla sua leggerezza alla sua volontà tenace di raggiungere queste vette alte nel mondo della ginnastica nel mondo dello sport e poi le notizie a centropagina Movida, Pesaro, blindata gli hotel chiedono un ultimo sforzo il contrasto sempre tra gli albergatori che vorrebbero riposo invece i baristi, i ristoratori che vorrebbero animazione a Pesaro si parla anche della siligata con il voto dei consiglieri che blocca il rondò e a Fano invece torna il pesce nei mercati i pescherecci vanno in mare seppur a ritmo ridotto prodotti freschi anche al ristorante e poi il problema della siccità rubinetti agli sgoccioli l'acqua sarà razionata in diverse località della regione Marche e poi un fatto di cronaca litiga con la moglie disabile e la colpisce con le sue stampelle un caso di violenza per quanto riguarda il codice rosso che poi è stato applicato su invece il resto del Carlino abbiamo l'edizione Marte e oggi essendo lunedì abbiamo una edizione più sintetica rispetto che gli altri giorni vediamo i titoli un po' di tutta la regione c'è molta cronaca su questa prima pagina Travolti e uccisi in bicicletta una scena apocalittica si tratta di un incidente verificatosi a Marina di Monte Marciano il fratello del 42enne morto con la sua compagna stava provando ad avere un figlio appunto un articolo che riguarda la pagina di Ancona e poi per quanto riguarda invece Pesaro schianto in autostrada muoiono padre e figlio andavano al lavoro e poi per quanto riguarda invece la Bolkestein questa direttiva europea che sta creando molti molti problemi ai concessionari di spiaggia i bagnini in lotta faremo di tutto contro la Bolkestein e poi il regista Abel Ferrara girerà documentario in Ucraina una iniziativa di livello culturale il dramma che ha colpito Allevi che ha ammesso di avere un male incurabile un cancro fan e amici si mobilitano per Allevi coraggio torna presto gli è stato detto a conforto dopo l'annuncio della malattia e per quanto riguarda Ascoli è fermo Iliad vince ricorso contro il comune l'antenna per i telefonini non si tocca a San Benedetto troppo alcol tre ragazzini finiscono in ospedale ed ora apriamo la pagina del Corriere sulla pagina di Fano e vediamo come l'apertura riguarda il ritorno del pesce al mercato i pescherecci tornano in mare prodotti freschi al ristorante prezzi aumentati insomma sono aumentati in modo particolare durante lo sciopero intentato dalla marineria per far sì che il prezzo del gasolio si abbassasse questo ancora non lo si è ottenuto ma almeno qualche supporto dal governo è arrivato almeno per sostenere le famiglie che fanno parte di queste imprese degli equipaggi della della flottiglia peschereccia ebbene sono tornati in mare seppure a ritmo ridotto il pesce è tornato ad affluire sui mercati i prezzi sono mantenuti non come i giorni scorsi ma un po' sostenuti la gente ha comprato lo stesso il prodotto e soprattutto nei ristoranti è tornato il pesce locale quel pesce locale che fa una differenza tra coloro che hanno accolto l'invito dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli di servire in modo particolare il pesce locale saranno contraddistinti con delle appliche con delle targhette che appunto evidenzieranno questa vocazione e poi e poi c'è la possibilità di tornare insomma a mangiare non solo il pesce pescato dalla piccola pesca che come qualità è ridotta sfoglie canocchie qualche pesce che si trova sulle tremiglia ma anche il pesce della pesca d'altura dunque prezzi aumentati ma la disponibilità di pescato è buona almeno fino al fermo e qui ci sono delle dichiarazioni di un ristoratore si tratta dell'operatore della lanterna di Metauriglia Flavio Cerioni che proprio nell'ambito del festival di passaggi mercoledì organizzerà una serata di intrattenimento con un personaggio molto noto nel mondo della enogastronomia si tratta di Davide Paolini giornalista gastronomo conduttore radiofonico che presenterà il suo libro Confesso che ho mangiato un'iniziativa che inaugura il nuovo format del festival a cena con l'autore e poi vediamo a fondo pagina l'articolo di un incidente stratale che si è verificato a Carrara di Fano nella giornata di ieri tampona un'auto grave un motociclista di 20 anni che è caduto sull'asfalto dovuto essere soccorso e poi trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona un giovane motociclista è stato trasportato appunto in Ancona a causa dei traumi riportati ieri intorno alle 11.45 in un pauroso pauroso veramente incidente che è accaduto sulla Flaminia Carrara di Fano all'altezza del bar Arcobaleno dopo l'urto con un'automobile che viaggiava nella sua stessa direzione quindi non è che c'è stato uno scontro frontale ebbene il centauro e la motocicletta sono caduti a terra e si sono fermati davanti all'ingresso dell'esercizio passando tra le colonne di un porticato e i tavolini esterni e c'erano degli avventori lì che per pacco non hanno rischiato di essere investiti dunque una dinamica particolarmente elaborata particolarmente complessa la fondazione Carifano si impegna più fondi per l'impianto natatorio ieri mattina si è svolta l'assemblea della fondazione Carifano il presidente Giorgio Gagnola ha relazionato sullo stato dei lavori per la realizzazione della nuova piscina quel impianto natatorio che sta sorgendo nei pressi dell'aeroporto con tre piscine abbiamo una piscina da 25 metri una piscina più piccola per i bambini e una piscina per la riabilitazione per tutti coloro che hanno bisogno di praticare il nuoto ai fini riabilitativi non ai fini agonistici o ai fini sportivi insomma una struttura che si ha risentito dei problemi di tutto il settore dell'edilizia prima il lockdown poi il problema dell'aumento delle fonti energetiche e poi il problema dell'individuazione delle materie prime che non si trovavano più però insomma nonostante queste difficoltà il presidente Gragnola ha detto che entro la fine dell'anno i lavori saranno terminati e ottimismo forse ma noi siamo con il presidente perché questa cosa ovviamente sia veri dato che Fano aspetta con impazienza la realizzazione di questo impianto il comitato è preparato e pronto a fare la sua parte in questo caso non siamo più a Fano ma siamo a terre roveresche e si parla del biodigestore il biodigestore Sadori con terre roveresche Mondavio e Fratte Rosa dopo il sì al biodigestore a Barchi e l'annuncio del sindaco di terre roveresche che si opporrà facendo ricorso al TAR Alfredo Sadori uno dei relatori della grande assemblea popolare che si è svolta a Barchi ricorda che esiste già un comitato di cittadini che ha seguito tutto il procedimento tutto l'intero procedimento e le iniziative più opportune per impedire la realizzazione dell'impianto dove si localizza questo impianto sorgono le proteste insomma la gente non lo vuole è un impianto che fa paura nonostante tutte le assicurazioni dei tecnici dunque la contestazione non si ferma e anzi si organizza al meglio l'azione contraria che va componendo che si sta componendo deve tenere conto che i cittadini le nostre comunità in casi simili hanno già vinto al TAR e al Consiglio di Stato impedendo tra le altre cose vi ricordate la costruzione dell'inceneratore di schieppe del parco eolico di Montevecchio che i comuni di Orciano di Pesaro e di Pergola avevano contribuito ad approvare con i loro pareri favorevoli dunque i consigli comunali dicono una cosa ma poi i cittadini dicono un'altra ed ora passiamo a Senigallia passiamo a Senigallia dove troviamo le forze dell'ordine impegnate a così controllare tutto quello che accade il sabato sera e la domenica giorni in cui magari la movida si alimenta ancora di più e ne succedono un po' di tutti i colori questa volta troviamo un titolo che ci evidenzia come un centauro è stato travolto da un ubriaco arrestato però il pirata della strada un ragazzo positivo al test di alcol e droga era scappato dopo aver investito una moto sulla Corinaldese un doppio incidente che si è verificato per per la dunque per un fuoristrada che ha distrutto l'auto a bordo della quale l'autista viaggiava insomma l'autovettura si è ridotta ad un ammasso di lamiere si tratta di un 23enne dell'Interland senigallese ubriaco e sotto l'effetto di droga sarebbe lui il pirata della strada che verso le 18 di ieri lungo la Corinaldese a Borgo Catena ha urtato violentemente la moto su cui viaggiava un 51enne nato a Torino ma residente a Senigallia dunque un incidente piuttosto grave e poi qui vediamo invece la solidarietà che si è costituita attorno alla dichiarazione di Giovanni Allevi noto musicista e ragazzo prodigio marchigiano che ha così testimoniato l'appartenenza alla nostra regione un po' in tutta Italia ma anche in tutto il mondo ebbene è un viaggio difficile ma ce la farai è l'incoraggiamento che ha dato Fedez anche lui oggetto di una malattia piuttosto grave un incoraggiamento di Fedez ad Allevi messaggio di solidarietà anche di Piovani il maestro Piovani al compositore che ha annunciato di avere un cancro Piovani il grande autore della musica della vita è bella ed ora diamo un'occhiata invece alla pagina pesarese dove vediamo che la notizia principale si riferisce alla movida che ha movimentato che ha movimentato il weekend pesarese un plauso alla movida blindata e questo è un titolo di incoraggiamento per le forze dell'ordine che mentre gli altri si divertivano a fine settimana invece gli agenti lavoravano per assicurare la sicurezza la tutela alla sicurezza noi costretti a dare le camere sul retro e non più vista mare sono così un po' gli albergatori amareggiati dal chiasso dalla confusione che anima i weekend a Pesaro i clienti degli alberghi ovviamente vogliono dormire a una certa ora quindi preferiscono stare nella parte a monte rispetto a quella a mare degli alberghi sì all'implementazione dei passaggi delle forze dell'ordine sono un bel deterrente per i giovani dagli animi surriscaldati poco però si può fare all'atto contro gli schiamazzi notturni a tarda notte se non un controllo se non una presenza costante appunto della polizia dei carabinieri sulle lungomare il che potrebbe così calmare un po' gli animi surriscaldati noi gestori ci adeguiamo ma serve anche tolleranza dicono gli operatori dei bar e dei ristoranti per i titolari dei chiosti del mare è stato un weekend di controlli comunque non è successo nulla di grave e qui invece vediamo un fatto di cronaca stampella contro la moglie disabile la polizia fa scattare il codice rosso la donna è stata colpita durante una furiosa rite dal marito che l'ha malmenata con la stampella usata dalla donna perché è disabile al momento al cumine di una violenta lite innescata da futili motivi e si tratta di un nigeriano sulla trentina che ha dato in escandescente contro la donna lui parlava la donna sembrava che non la ascoltasse lui si è inviperito ancora di più e quindi gli ha scagliato contro questa stampella che ha avuto evidentemente a portata di mano ebbene a questo punto la donna non ha più sopportato queste intemperanze dal marito si è rivolta appunto alle forze dell'ordine le forze dell'ordine hanno fatto scattare il codice rosso hanno proibito all'uomo di avvicinarsi alla donna la donna e il figlio sono state ricoverate in una situazione più sicura più utelata rispetto al marito ed ora l'uomo il nigeriano dovrà rispondere di questi atti di fronte al giudice invece su questa fotografia vediamo il market pride che si è svolta a Pesaro il giorno dopo il market pride gli organizzatori sono già in campo con altri progetti che dovrebbero coinvolgere oltre Pesaro anche il comune di Fano appunto non si parla di cosa è esattamente però insomma sono in alto dei contatti si sblocca il rondo della siligata determinante per la sicurezza qui cadono spesso accadono spesso degli incidenti e quindi questa rotatoria potrebbe evitarne dei prossimi oggi il consiglio comunale di Pesaro è chiamato a votare il progetto e la variante per fare partire il cantiere si tratta della rotatoria sul valico della siligata che rappresenta un passaggio determinante per aumentare gli standard di sicurezza per i residenti e soprattutto per gli automobilisti in transito è un'opera dunque strategica sulla statale 16 che darà una risposta alle tante sollecitazioni che poi sono state evidenziate dai residenti del quartiere di San Bartolo della siligata del boncio una convenzione tra Anas e comune di Pesaro che provvederà agli espropri per un investimento di 40 mila euro e qui vediamo come la cooperativa Labirinto festeggia dieci anni di accoglienza lo festeggia domani pensando lo festeggia da giovedì scusate 23 pensando al domani è tutto un programma di iniziative suddivise in più aree tematiche ma la vocazione del labirinto è quella soprattutto per contenere il problema dell'immigrazione anzi non un problema ma la labirinto la definisce come una risorsa progetto EMMA servizi migliori per i migranti presentati risultati occhielli rafforzata la qualità dell'offerta questa è un'altra iniziativa che contribuisce all'accoglienza nel nostro territorio vediamo anche la pagina di Urbino dove fermano le proteste chiamiamole così perché così si tratta perché così insomma la questione per quanto riguarda la soppressione della diocesi io credo che qualsiasi comunità si senta un po' depooperata quando si elimina un vescovo autottono cioè non un vescovo nato Urbino in questo caso ma una diocesi che è di Urbino e poi è di lunga data si può creare una diocesi montana e non togliere l'arcivescovo di Urbino ebbene la proposta del partito democratico che entra nel dibattito e cita il modello di Fano di Fano che anche lui anche la città ha accorpato diverse diocesi infatti la diocesi di Fano comprende Cagli, Pergola e Fossombrone e devo dire che al suo tempo quando queste tre diocesi Cagli, Pergola e Fossombrone sono state accorpate a Fano non è che i residenti erano tanto contenti però ora la cosa ormai si è unificata e quindi tutti vivono in comune e accordo grazie poi anche all'operatività del vescovo attuale Monsignor Armando Trasarti che è veramente un peregrino da una parte all'altra in tutto il territorio come il mitico peppone di Giovannino Guareschi intitola il giornale Urbino manifesta il PD di Urbino manifesta simpatia e pieno sostegno all'arcidiocesi esprimendo netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di unificazione con Pesaro ciascuno vuole la propria autonomia ed ora diamo un'occhiata invece al resto del Carlino abbiamo visto la prima pagina apriamo il giornale sulla pagina di Pesaro e vediamo come si evidenzia la protesta dei bagnini bagnini faremo di tutto contro la Bolkestein Alice e Giamprini dei bagni Re Sole vogliono spazzare via le piccole aziende e chi ha costruito come io con il bar perderà tutto ebbene c'è chi ha costruito anche piscine strutture ombreggiate servizi insomma ha fatto congrui investimenti nella concessione che gli è stata affidata e purtroppo corre il rischio di perdere tutto se la sua offerta non ne vincerà la prossima gara gara che dovrebbe tenersi dopo il 24 cedesi attività balneare per informazioni rivolgersi a Mario Draghi ebbene questa è una è una ironia che è stata fatta dai concessionari di spiaggia tirando in ballo il capo del governo quando i bagnanti pesaresi hanno visto il cartello esposto nel loro stabilimento si sono informati interessati a capire ebbene è una provocazione a Pesaro hanno aderito alla protesta silenziosa che su scala nazionale ha raccolto l'adesione di circa 2000 bagnini 2000 bagnini che rischiano di perdere la loro concessione perché verrà messa all'asta e dovranno con le loro offerte riapropriarsi di quello che hanno costruito se gliela faranno e qua purtroppo vediamo la notizia dello schianto in autostrada morti padre e figlio erano due artigiani andavano al lavoro si chiamavano Michele Giovanni Ascione di 57 anni il padre di 32 anni il figlio quindi erano persone adulte erano di Fano viaggiavano su una lancia Ypsilon per dirigersi ad un cantiere navale di Ancona feriti gravemente un terzo passeggero nella vettura delle vittime e la conducente di un'auto che li ha urtati sulla corsia sud di Marotta ebbene la dinamica è veramente drammatica improvvisamente nella corsia sud all'altezza di Marotta per cause ancora in via di accertamento un vecchio modello della Toyota Yaris guidata da una ragazza avrebbe violentemente urtato facendola cappottare più volte nella corsia di marcia l'auto su cui viaggiavano padre e figlio scaraventando appunto le due persone fuori dell'abitacolo un urto che non li ha lasciato scampo purtroppo sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale di Fano cui spetta il compito di ricostruire con esattezza le fasi dell'incidente che appare per molti versi inspiegabile ancora non si riesce a capire veramente come è accaduto e qua vediamo come una prostituta di Montecchio cosa ha fatto ha dato la sua prestazione poi il cliente non voleva pagare e questa si è rivolta alla polizia per tutelare i propri diritti infatti l'attività della prostituzione non è vietata è vietato lo sfruttamento della prostituzione lei ha fatto quello che gli è stato chiesto però il cliente poi non voleva pagare e lei ha chiamato il 112 è arrivata la polizia insomma anche questo è un caso particolare e vediamo ancora Ferrara va alla guerra documentario in Ucraina l'annuncio del regista alla mostra del nuovo cinema di Pesaro vediamo qua il titolo meglio ecco voglio vedere cosa accade ha detto il regista e sul film su Pasolini lui è stato un maestro un maestro che ha insegnato a tante persone sia nel campo della letteratura che in quello della poesia e in quello della cinematografia e poi a Fano Passaggi Festival il via a Fano storia arte calici di scienza al via oggi nella città della fortuna la decima edizione di Passaggi Festival con più di 150 proposte culturali presentazioni di libri aperitivi scientifici mostre laboratori per bambini tanto tanto per tutta la settimana il primo incontro è quello alle 9.30 di questa mattina al Bon Bon quando verrà presentato dalla autrice Chiara Giacobelli il suo libro 100 cose da sapere e da fare a Pesaro e dintorni ebbene questa è l'ultima notizia anzi no prima voglio parlarvi anche di una notizia di sport vediamo come il girone B della serie C in cui gioca la Vis è quasi pronto Teramo invece è ancora a rischio vediamo anche un titolo sull'alma Fano Missione Bandiera tutti i nomi disponibili la società vuole caratterizzare la squadra con giocatori del posto da Omiccioli a Urbinati e il sogno proibito potrebbe chiamarsi anche Gabbianelli ebbene questo è veramente tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle 20.30 con occhio alla notizia su Fano TV grazie per l'ascolto per risentirci